Il mondo non dimenticherà mai quell'11 febbraio del 2013 con l'annuncio della rinuncia. C'è chi continua a dire che non sia stata una libera scelta o addirittura che lui abbia dopo voluto rimanere Papa in qualche modo. Cosa ne pensa? Questa domanda in altre parole, in diverse situazioni ho detto io a lui. Questa domanda cercano una dietrologia che lei non ha detto quando ha fatto questo annuncio l'11 febbraio dopo il concistoro. Cercano e cercano e cercano, deve essere qualcosa di... Chi non crede che ciò che ho detto è il vero motivo, non mi crede anche se dico adesso credetemi è così. Poi non vorrei adesso andare, entrare nei dettagli. E l'unica... questo è e rimane l'unico motivo. E questo è grave. E non dobbiamo dimenticare. A me ha detto devo farlo perché io ero le primi che ho cercato di convincere che non è possibile. E poi mi ha detto nettamente, senta, non chiedo al suo parere, scusi, ma comunico una mia decisione. Pregato, sofferto, presa, cura di Dio. Non è così che si può scavare e credere di trovare qualcosa che non crede o fa teorie anche riguardo ha lasciato una parte, ha mantenuto un'altra parte o eccetera. Tutti quelli che dicono questo, fanno delle teorie su una parola o su una teoria di un'altra cosa, alla fine fine non si fidano di Benedetto, di ciò che ha detto. Vuol dire che questo è proprio un affronte contro di lui. Però ognuno ha la sua volontà, la sua libertà e può dire o cosa sensato o maniocansato. Nuda verità è quello che non ha più avuto più la forza di guidare la Chiesa. Come ha detto questo in latino? Io ti ho detto perché in latino ha detto questo? Questa è la lingua della Chiesa, io vorrei farle questo e questo. E poi loro traducono e capiscono. Chi crede di trovare o di dover trovare qualcosa di vero, 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 vero motivo, spaglia. Il vero motivo ha comunicato lui. Amen. Cari ascoltatori, ben trovati, ben trovati a tutti. Siamo in compagnia del dottor Andrea Cionci che molti conoscono, storico dell'arte, giornalista, scrittore. Si occupa di storia, archeologia e religione. Abbiamo in questa fase, subito dopo il funerale di Benedetto XVI. Parliamo con Andrea Cionci di questo. Ben trovato Andrea. Grazie, buongiorno Francesco, un caro saluto a tutti. Grazie a te. Iniziamo a parlare di questa aura di nebbia che ha riempito Roma ieri per il funerale di Benedetto XVI. Come la interpreti? Ma i fenomeni atmosferici in questi lunghi nove anni che possono avere dei significati simbolici sono stati moltissimi e anche, diciamo, piuttosto pesanti. Pensiamo a quando il giorno della Declarazio cade un fulmine sul cupolo di San Pietro. Oppure ricordiamo, questo è uscito più recentemente, quando Papa Benedetto salutando a Castel Gandolfo i fedeli una folata di vento scopre la tiara pontificia dello stemma architettonico sotto al balcone. Oppure quando sempre una folata di vento censura Bergoglio mentre dice Dio si contamina, anzi, Dio dice si contamina con il peccato, no? Ieri c'era anche una fitta nebbia che avvolgeva la Basilica di San Pietro. Io da romano posso dirvi che la nebbia a Roma non si vede mai, praticamente. è un fenomeno del tutto nuovo per la città eterna che a mio avviso è simbolico, diciamo, senza lanciarci in interpretazioni teologiche però è del tutto simbolico della nebbia che per la maggioranza delle persone avvolge ancora la coscienza collettiva su questa questione dei due papi. nessuno ci ha capito granché personalmente ho dedicato due anni e mezzo della mia vita H24 a dipanare la magna questio dei due papi. In 400 articoli e nel volume Codice Ratzinger che oggi è fra i dieci saggi più letti in Italia ho esplicitato, diciamo, spaccando anche il capello in quattro come Papa Benedetto non abbia mai abdicato ma a norma del diritto canonico abbia deciso di fare il Papa in modo essenzialmente spirituale soffrendo e pregando rinunciando alle parole e le opere ma trattenendo il munus l'investitura di disposizione divina di pontefice che lo ha fatto rimanere Papa cioè quando Benedetto diceva il Papa è uno solo senza spiegare quale si riferiva a se stesso perché? Perché lui non ha mai abbandonato il munus petrino. Dal 2013 la sede romana è totalmente impedita come recita il canone 335 perché? Perché mentre il Papa non era morto e non era abdicatario ma aveva semplicemente rinunciato all'esercizio pratico del potere gli hanno convocato alle spalle un nuovo conclave illegittimo che ha eletto un antipapa che è Francesco che esercita abusivamente il ministerium, l'esercizio del potere petrino. Ok, Benedetto XVI muore il 31 dicembre che come sappiamo è il giorno di San Silvestro Papa quindi non è che voglio passare alla numerologia dalla nebbia però anche quel giorno c'era tanta nebbia e su tutta Roma il 31 6 tutta la notte fino alla mattina del 6 c'era una forte nebbia e questo San Silvestro Papa morì nel 335 questa è una piccola curiosità che... Sì, 335 come il canone della sede totalmente impedita chiaramente queste sono suggestioni che lasciamo alla fede delle persone se prendere appunto come segnali del divino però voglio dire in ottica di fede da sempre si sa che Dio lancia dei segnali da dei segnali possiamo anche citare il fatto che è stata fotografata nel cielo sopra San Pietro durante i funerali di Papa Benedetto una inequivocabile croce luminosa che si è aperta attraverso uno squarcio dalle nuvole io conosco l'autore è una persona assolutamente degna di fede questo evento atmosferico è stato fotografato anche da altre persone chiaramente per chi ha fede questo non può non essere un segno divino le altre persone devono prendere atto di questi curiosi fenomeni che ne pensi del testamento spirituale di cui parla? abbiamo appena ascoltato Monsignor Gensbein sul testamento spirituale il 29 agosto 2006 che ha lasciato Benedetto XVI credi che ci sarà un altro testamento che ha un altro valore e che quello ha un valore solo spirituale? ci puoi spiegare un attimo? sì, hanno cercato di ammannire questo vecchio testamento spirituale del 2006 stranamente scritto da Papa Benedetto a un anno dalla sua elezione al pontificato forse già temeva qualcosa ma diciamo ai fini di ciò che ci interessa mi sembra che non contenga nulla di significativo quello che conta è il testamento materiale che è ancora nelle mani di Monsignor Gensbein ed è il matematico che uscirà beh o è molto probabile vi posso dire questo in ultime conversazioni libro del 2016 di Peter Sevald ha la domanda ma lei ha fatto testamento? sì è un testamento teologico? no no è per lasciare ciò che possiedo e io non penso che si riferisse al suo pianoforte ha le scarpe rosse al gattino ma ha qualcosa di ben più importante abbiamo appena ascoltato il Monsignor Georg Gensbein che mette in guardia da molte affermazioni che scindono fra Munus e Ministerium come interpreti questa sua esternazione a Radio Vaticana di qualche giorno fa? sì le ultime interviste di Monsignor Gensbein io le ho trovate assolutamente godibili perché lui sta stressando il codice Ratzinger cioè questo stile di comunicazione costantemente anfibologico che ha usato il Papa insieme al suo segretario negli ultimi nove anni per dire la verità dietro una lettura bergoglianamente corretta devo dire però che queste ultime dichiarazioni di Monsignor Gensbein hanno gettato un po' scompiglio tra le file dei veri cattolici fedeli a Papa Benedetto XVI e questo diciamo mi ha causato anche un pochino di dispiacere perché sono due anni e mezzo che vi sto spiegando come funziona il codice Ratzinger che c'è sempre una lettura bergoglianamente corretta ma dietro è contenuta un'altra lettura come quando Papa Benedetto dice il Papa è uno solo sì d'accordo che può essere Francesco ma può essere anche lo stesso Benedetto quando dice ho rinunciato validamente al mio ministero sì d'accordo che può essere il munus perché sia munus che ministerium vengono tradotti con la parola ministero ma è il ministerium perché lui nella sua declarazione è rinunciato al ministerium a fare il Papa e non ad essere Papa quindi riprendiamo qualche recente frase di Monsignor Gensbein io vi guiderò alla seconda lettura retrostante dice la rinuncia era valida Benedetto non ce la faceva a guidare la chiesa verissimo perché Papa Benedetto era in pieno ammutinamento non ce la faceva non aveva le forze di opporsi ai suoi ai suoi subordinati che si erano ammutinati diciamo così e quindi ha rinunciato validamente a fare il Papa in modo pratico come abbiamo detto poco fa questo è ancora più sottile e anche molto divertente trovo dice Monsignor Gensbein alcuni fanno dietrologie attaccandosi alle parole e questo è stato un affronto per Papa Benedetto allora nella lettura A bergoglianamente corretta dice Monsignor Gensbein sta parlando di cionci e lo sta severamente censurando in realtà delle dietrologie vere e proprie sono state fatte sulla declarazione di Papa Benedetto quando i cardinali della mafia di San Gallo hanno voluto interpretare a tutti i costi la rinuncia al Ministerium come una rinuncia al Munus cercando di spacciare il Ministerium come sinonimo di Munus nel senso di essere Papa e questo dice Monsignor Gensbein è stato un affronto per Papa Benedetto certo che è stato un affronto per Papa Benedetto perché facendo queste dietrologie sul Ministerium l'hanno fatta passare la declarazione per una dedicazione hanno organizzato un conclave invalido e hanno imposto un antipapa per nove anni più affronto di così ma quella che più ha gettato sconcerto è il Papa si chiama Francesco non c'è nessun dubbio che il Papa è uno e si chiama Francesco allora questa cosa non c'è nessun dubbio è vecchia di anni non c'è nessun dubbio che il Papa è Francesco si legge come nessuno ha dei dubbi che il Papa sia Francesco cioè si è riconosciuto come Francesco tutti credono che il Papa sia Francesco infatti a parte Cionci e qualche altro povero pazzo tutti pensano che il Papa legittimo sia Francesco ma questo non vuol dire che il Papa è Francesco infatti dice il Papa si chiama Francesco lo si chiama lo si individua e in Francesco ancora più sottile questa l'ho scoperta poco fa quando dice Benedetto ha rinunciato al pontificato questa è stupenda andate sulla Treccani ceccate il significato della parola pontificato e vedrete che può voler dire sia la carica di pontefice ma anche il periodo dell'esercizio del potere papale quindi ancora una volta il ministerium Papa Benedetto ha rinunciato a quel periodo dell'esercizio del potere papale perché ha rinunciato a fare il Papa ma ha mantenuto l'essere Papa quindi pontificato è sinonimo di ministerium non di munus no di entrambi di entrambi pontificato può voler dire sia munus carica che periodo di esercizio del ministerium mi spiego quindi come vedete ci sono sempre due letture sempre costantemente due letture e non è Andrea Cionci che si arrampica sugli specchi perché ve l'ho dimostrata dal punto di vista lessicale grammaticale sintattico linguistico che ci sono sempre due letture anche canonico come nell'ultimo caso del pontificato e proprio 11 ore fa 12 ore fa Monsignor Gheswain ha twittato una frase di Benedetto XVI che dice rimanete saldi nella fede non lasciatevi confondere faccio un appello a tutti i veri cattolici che seguono Papa Benedetto e mi unisco a Monsignor Gheswain non lasciatevi confondere il Monsignore giustamente continua a parlare in codice Ratzinger perché tutto è il suo tempo come dice Papa Benedetto quindi sento persone che dicano ah adesso Gheswain deve parlare chiaramente Monsignor Gheswain deve fare quello che dite voi siete voi a decidere i tempi e i modi non credo che funzioni così allora state tranquilli state calmi perché tutto ha il suo tempo parliamo un attimo dell'esternazione alla Lumsa del Monsignore che dice ha fatto riferimento a Geremia Isaia ci puoi spiegare bene cosa è successo perché in rete ha avuto un grande successo ma molti non l'hanno vista è stato uno degli ultimi e più plateali codici Ratzinger di Papa Benedetto quando Monsignor Gheswain va a presentare alla Lumsa il libro di Pier Giorgio di Fredi con qualche pagina di Benedetto porta un messaggio del Papa il quale diceva agli astanti potete credere o non credere se non credete la risposta è nel libro di Geremia o di Isaia ma non vi dico in quale capitolo e in quale versetto apro il libro di Geremia e mi appare a lettere di scatola la frase e Geremia disse a Baruch io sono impedito e non posso entrare nel Tempio del Signore quindi gli Unacum e i Bergogliani che diranno che è una coincidenza che Benedetto ha scelto l'unico libro della Bibbia in cui c'è la frase io sono impedito va bene glielo lasciamo credere e siamo a posto così per le altre persone normali invece dotate di un normale raziocinio e di un ovvio buonsenso chiaramente il segreto di tutta questa storia è nel libro di Geremia perché Baruch era il segretario di Geremia e chi avrà la pazienza di leggere il libro capirà come andrà a finire questa storia perché Baruch ha un ruolo molto importante e deve fare un servizio che gli ha chiesto il profeta Geremia il quale viveva in un periodo di apostasia di lontananza del popolo di Israele dal Signore di tradimento della fede eccetera ma questa tua domanda Francesco mi dà l'occasione di citare le letture che sono state inserite nella messa funeraria di Papa Benedetto letture scelte apposta perché non fanno parte né del lezionario dei defunti né dell'ordo ex equiarum per i papi e infatti Repubblica stessa ci conferma che sono state scelte proprio da Papa Benedetto ed ecco cosa c'è scritto nella prima lettura dal libro di Isaia già citato all'Ums ancora un po' e il Libano si cambierà in frutteto e il frutteto sarà considerato una selva capite ci sarà un radicale cambio di scenario il Libano si cambierà in frutteto e il frutteto sarà considerato una selva pronti eh poi udranno in quel giorno i sordi e le parole del libro liberati dall'oscurità e dalle tenebre gli occhi dei ciechi vedranno quindi ci sarà un ribaltamento della situazione chi finora non ha voluto sentire non ha voluto capire avrà finalmente una una spiegazione definitiva il Salmo dice davanti a me Signore prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa cioè ci sarà una grande festa davanti ai nemici in faccia ai nemici poi la seconda lettura da San Pietro Apostolo che è ancora più eloquente ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove affinché la vostra fede messa alla prova torni a vostra lodo e gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà quindi tra l'altro il Vangelo cita il velo del Tempio si squarciò a metà quindi tutto fa capire a una persona normo ragionante che si sta preparando una rivelazione che ribalterà completamente una situazione che non è stata percepita non è stata riconosciuta da tantissime persone e appunto anche gli occhi dei ciechi vedranno torniamo alla morte di Benedetto XVI molti in rete è circolata questa voce che probabilmente non è lui quello che hanno esposto vogliamo diradare un attimo la situazione perché non è una cosa di cui parlano in pochissimi purtroppo il complottismo esiste io mi sono sempre scagliato contro questa accusa di complottismo perché i complotti esistono ma esiste anche il complottismo allora che cosa separa un'indagine un'inchiesta seria dal complottismo il fatto che il complottismo si basi su suggestioni emotive e non su dati di fatto oggettivi o che comunque questi dati di fatto oggettivi non sono stati vagliati con la ragione ma rimangono a livello superficiale quello che è stato visto come dato di fatto è che il corpo di Papa Benedetto aveva alcuni connotati leggermente diversi da quelli del Papa vivo l'orecchio piuttosto rinsecchito il naso che aveva assunto una forma aquilina ma io vorrei ricordare che il corpo del Papa che forse non è morto neanche il 31 ma anche qualche giorno prima viene trattato con dei prodotti molto invasivi per la conservazione del corpo quindi questo crea una disidratazione c'è poi un processo di decomposizione rilasciamento dei tessuti quindi chiaramente il corpo un corpo morto da diversi giorni che viene trattato in modo così pesante con prodotti chimici formaline eccetera è sottoposto a dei cambiamenti e quindi è naturale che l'orecchio si disidrati che il naso possa cedere e che ci possano essere degli altri cambiamenti nella fisionomia derivati appunto dalla morte dai processi conservativi anche perché poi l'alternativa quale sarebbe che ci hanno messo un pupazzo di cera ci hanno messo un morto un sosia morto hanno ucciso il sosia e lo hanno messo da cerchiamo di essere seri anche perché poi il dramma è che questi complottismi derivano da interpretazioni letterali di profezie più o meno convalidate dalla chiesa allora siccome la madonna di questo paese o di quell'altro diceva che il papa sarebbe fuggito il corpo di benedetto è un pupazzo di cera il papa ha preso un sottomarino è fuggito in sudamerica e adesso tornerà in forza cioè cerchiamo di essere seri per favore le profezie non vanno mai prese alla lettera non tutte le profezie sono state convalidate dalla chiesa di solito solitamente hanno un linguaggio simbolico immaginifico quindi per esempio quando si dice il papa è fuggito da roma ritirandosi in sede impedita il papa in un certo senso è fuggito da roma ma parliamo di roba di nove anni fa quindi non siate troppo sicuri delle profezie addirittura su fatima c'era qualcuno che mi diceva che il papa benedetto col girello sarebbe passato in una roma mezza distrutta bombardata per salire su una montagna dove c'era una croce di sucra non si interpretano in modo letterale le profezie come ve lo devo dire una domanda sul vescovo emerito di roma visto che Bergoglio adesso se dovesse dimettersi non potrebbe essere papa emerito anche lui mi sembra di aver capito oppure sì Bergoglio non ha nulla da cui dimettersi perché non è il papa infatti è un vescovo ma non può dimettersi da papa potrebbe diventare forse vescovo emerito ma ormai non c'è più il papa a cui presentare le dimissioni cioè siamo in una situazione di sospensione giuridica totale tra l'altro è scismato dalla chiesa perché ha occupato abusivamente il trono petrino quindi siamo nell'illegalità più totale e assoluta ma queste presunte dimissioni di Bergoglio io ci scommetto la testa saranno scritte in italiano o in spagnolo o in qualche altra lingua volgare perché? perché se le scrivesse in latino dovrebbe rinunciare al munus petrino e il munus petrino sappiamo che è rimasto nelle mani di Papa Benedetto per nove anni e adesso è stato restituito a Domine Dio spieghiamola questa cosa al pubblico nel senso che le lingue di cui hai fatto riferimento tu hanno un'unica parola che per rappresentare il munus e il ministero c'è una separazione solo in tedesco hai spiegato e in no scusa per il pubblico e in latino invece c'è una distinzione tra i due termini certo esattamente così munus e ministerium in inglese si dicono ministry in francese si dicono minister spagnolo e portoghese ministerio in polacco posluga in tedesco il tedesco è l'unica lingua che fa la distinzione fra munus e ministerium e infatti nella traduzione tedesca della declaratio i due enti sono stati invertiti in tedesco noi abbiamo che il papa rinuncia al munus che si dice amt e non al dienst il ministerium e questo configura due possibilità o i traduttori tedeschi hanno forzato la declaratio per cercare di farla figurare come legittima anche se c'è poi il discorso del differimento dell'entrata in vigore del provvedimento che renderebbe comunque invalida la rinuncia oppure lo stesso entourage di papa benedetto per non destare sospetti nell'occhiuto clero tedesco ha invertito questi due enti ciò che conta però è la versione latina quindi i tedeschi dovevano andare a confrontare se amt e d'inst corrispondevano effettivamente nella declaratio al posto in cui erano stati inseriti munus e ministerium ma vorrei parlare di un'altra cosa in merito al funerale di papa benedetto perché voi sapete che nella cassa è stato inserito il rogito che è diciamo una sintetica biografia della vita del papa questo rotolo viene inserito in un cilindro di metallo rimane insieme al corpo per i posteri quindi il testo ripercorre la biografia di papa Ratzinger finché arriva al punto nodale e dice la mattina dell'11 febbraio 2013 durante un concistoro convocato per ordinarie decisioni circa tre canonizzazioni il papa lesse la seguente dichiarazione in latino bene concius sum hoc eccetera e c'è tutta la declaratio in latino segue il testo subito dopo dicendo nell'ultima udienza generale del pontificato il 27 febbraio nel ringraziare tutti e ciascuno per il rispetto e la comprensione con cui era stata accolta la sua decisione assicurò continuerò ad accompagnare il cammino della chiesa con la preghiera e la riflessione con la stessa dedizione che ho cercato di vivere fino ad oggi e che vorrei vivere per sempre dopo una breve permanenza a Castel Gandolfo visse gli ultimi anni della sua vita in Vaticano nel monastero Mater Ecclesie dedicandosi alla preghiera e alla meditazione leggete qualche cenno su rinuncia al papato abdicazione cose del genere niente zero viene citata la declaratio tale e quale in latino proprio perché in essa è già scritto tutto cioè Papa Benedetto rinuncia a fare il Papa e parte la sede totalmente impedita si dice che Papa Benedetto ha deciso di continuare a esercitare il suo ministerium soffrendo e pregando cosa che gli è consentita come abbia detto dal canone 333.2 ma ciò che balza gli occhi con la palissiana evidenza è che se Papa Benedetto avesse davvero compiuto l'abdicazione nel rogito ci sarebbe stato scritto a chiare lettere l'11 febbraio 2013 rinunciò al papato e invece vi pare che in un testo biografico così sintetico si possa lasciare ai posteri il peso di scervellarsi su cosa volesse dire la declaratio è ovvio è chiarissimo in questo rogito abbiamo il tipico sistema del codice Ratzinger del silenzio doom touch et clamat cioè cose che non vengono esplicitate non vengono chiarite perché la verità deve ancora venire fuori una domanda mi viene in mente mentre parlavi di questo rogito è riportata esattamente testuale così come era in latino o è stato corretto qualcosa non so se l'hai verificato te l'ho chiamato perché c'erano degli errori in latino no la declaratio è stata successivamente emendata da quegli errori di latino che furono che furono trovati a caldo da professor Canfora e da professor Wilfried Stroh errori di latino che erano stati inseriti per tenere viva l'attenzione su quel documento e che nel 2016 diedero modo a Papa Benedetto di regalarci un grandioso codice Ratzinger dicendo la dichiarazione l'ho scritta in latino perché è una lingua così bene che conosco così bene da non commettere errori e l'ho scritta in latino perché in italiano avrei potuto commettere degli errori allora una frase del genere che il vaticanista Tornielli si beve senza batter ciglio così come anche il vaticanista Valli che oggi mi attaccano mi danno del matto del complottista eccetera cari colleghi vi siete bevuti nel 2016 che Papa Benedetto aveva scritto la declarazione in latino per non commettere errori quando tutti sapevano che era zeppa di errori e imprecisioni allora qual è il vero significato di questo messaggio l'ho scritta in latino per non commettere l'errore storico di abdicare perché come abbiamo visto solamente in latino è presente la distinzione fra munus e ministerio perché se Benedetto avesse scritto in italiano rinuncio al ministero in modo che la sede resti vacante non ci sarebbero state discussioni ma lui ha scritto rinuncio al ministerium in modo che la sede romana la sede di San Pietro vacet che si traduce in latino resti vuota e infatti come tutti ricordate il 28 febbraio 2013 prima delle ore 20 lui prende l'elicottero vola a Castel Gandolfo in modo da lasciare la sede romana vuota vuota e ricorda Papa Benedetto e dichiaro che il prossimo sommo pontefice dovrà essere eletto da coloro a cui compete perché questa spiegazione inutile perché non ha detto dai cardinali perché lui sapeva che lasciando la sede vuota rinunciando solo a fare il Papa qualcuno avrebbe avuto qualche brutta idea di usurpare il trono petrino e quindi lui ricorda fate come vi pare sappiate però che il prossimo vero Papa dovrà essere eletto dai veri cardinali di nomina per il 2013 quelli nominati da me che sono la minoranza hai sempre spiegato sono una quarantina oggi perché Bergoglio ha nominato 83 falsi cardinali elettori allora che cosa succede adesso se Bergoglio presuntamente si dimette il suo obiettivo sarà quello di fregare i cattoconservatori mandarli tutti a un falso conclave comprendente gli 83 falsi cardinali che eleggeranno un altro antipapa ed è esattamente quello che preme a Bergoglio cioè che il prossimo Papa tra virgolette sia un antipapa non abbia il munus petrino non abbia l'assistenza dello spirito santo che adesso è correlata perché l'aggressione che Bergoglio il quale non è affatto cattolico ma una spiritualità del tutto inversa e apostatica rispetto al cattolicesimo questa aggressione è di natura essenzialmente spirituale quindi non solo diciamo Bergoglio ha tentato di mettere un suo figlioccio nominando tutti questi falsi cardinali tipo Zuppi Tagle Maradiaga ma anche se per uno stranissimo caso del destino venisse eletto un cardinal Burke o un altro conservatore ma perfino se venisse eletto un padre Pio sarebbe comunque un antipapa privo del munus privo dell'assistenza dello spirito santo e nell'ottica bergogliana di questa strana spiritualità chiaramente poi il destino della chiesa sarebbe gestito da un'altra provvidenza non quella divina un'altra provvidenza però io facendo i conti dico se questi 80 oltre 80 cardinali nel momento in cui Bergoglio si dimette potrebbero non essere più fedeli a Bergoglio il giorno dopo una buona parte se fossero più di 20 più di 25 avrebbe una maggioranza un gruppo di persone fedeli a Papa Benedetto l'importante l'importante è che il Papa debba essere eletto solo dai veri cardinali quella è l'unica cosa quelli a cui compete quelli a cui compete non è che possiamo entrare io e te in conclave capito perché a noi non compete così i cardinali nominate a Bergoglio si si l'hai appena spiegato infatti l'hai appena detto non volevo aggiungere questa cosa se dovessero loro questa tua domanda mi riporta un'ipotesi di scuola molto complessa che avevo fatto la cosiddetta teoria dell'antipapa onesto cioè se venisse fuori un antipapa che però fosse un onestuomo lui dovrebbe scardinalare tutti i cardinali di nomina Bergogliana poi lui stesso dimettersi in modo da ricreare un vero conclave di cardinali per il 2013 che elegano un altro vero papa questa è l'ipotesi di scuola dell'antipapa onesto ma la vedo difficilissima una cosa interessante è notare come alcune interviste di Monsignor Gheswein siano state tagliate e cuscite con grande abilità con grande abilità per esempio un'intervista proposta dal TG5 è tutta un tagliacuci dove vengono sovrapposti dei filmati per coprire i tagli dell'intervista Monsignor Gheswein per esempio e lui si sente che dice il papa è Francesco poco prima c'è stato il taglio e hanno tagliato quello che probabilmente era una frase tipo non c'è nessun dubbio che il papa è Francesco oppure tutti sanno che il papa è Francesco che come abbiamo spiegato prima conferisce quel significato anfibologico alla frase quindi non fatevi fregare dal mainstream perché stanno facendo dei giochi luridi luridi per coprire Bergoglio perché se crolla Bergoglio crolla il deep tutto va tutto a carte 48 quindi papa Benedetto ha salvato non solo la chiesa ha salvato il mondo ha distrutto il relativismo ha distrutto il relativismo perché in questi nove anni se ne sono sentite di tutti i colori ma anche e soprattutto da parte cattoconservatrice hanno detto che il munus che il ministerium è sinonimo del munus che non era necessario nominare il munus che quello che contava era la rinuncia al ministerium che il papa non era sottoposto al diritto che ha donato ne hanno dette di tutti i colori hanno detto che Ratzinger era modernista era complice di Bergoglio che era non so veramente se ne sono inventate di tutte proprio con un atteggiamento relativistico nei confronti della realtà cioè non è importante il dato oggettivo ma la mia percezione c'è un professore che ha scritto un libro di centinaia di pagine ci ha messo anni per dimostrare che papa Benedetto siccome era modernista aveva un'errata concezione del papato e quindi si è inventato questa assurdità del papato emerito che vuol dire il papa che merita di essere papa in quanto papa impedito che resta sempre papa andando a ripescare scritti del 1954 prima del concilio nell'assoluto dispregio verso diciamo le più evidenti banali considerazioni sui codici Ratzinger cioè il fatto che il papa Benedetto fino al febbraio 2022 ancora salutava impartendo la sua benedizione apostolica cioè più chiaro di così la benedizione apostolica prerogativa esclusiva del papa hanno rifiutato di considerare delle delle ovvie constatazioni come il fatto che un uomo di indubbia mitezza e correttezza come Josef Ratzinger se avesse abdicato veramente certo non sarebbe rimasto lì a rompere le uova nel paniere al suo successore in Vaticano vestito di bianco dicendo che aveva conservato la veste bianca perché non aveva altri abiti nell'armadio e assurdità del genere che si sono bevuti sempre vaticanisti come Andrea Tornielli che oggi mi dà del ciarlatano Tornielli nel 2016 tu hai pubblicato la risposta di Papa Benedetto che diceva che aveva mantenuto il nome pontificale la veste bianca perché non aveva altri abiti disponibili d'accordo quindi io ti consiglierei un profilo più basso anche perché si stanno addensando dei nuvoloni sopra San Pietro quindi hanno tutti negato l'esistenza di questa realtà di questi messaggi chiarissimi e si sono sprofondati speculazioni filosofiche su cose vecchie di decenni anche di 60 70 anni fa mi spiego grazie per chiudere questa intervista ti vorrei fare una domanda generica sul tuo approccio la religione oggi è vissuta come una sorta di affiliazione ad un sentire che uno ha e quindi uno cerca dei gruppi che aderiscono un po' a quel mio sentire quindi è un approccio tutt'altro che serio pesato logico scientifico in contrapposizione c'è questo tuo approccio che lo dimostra il tuo libro codice Ratzinger ma in che senso in questo contesto così come tu spesso dici empatico si può introdurre questo tuo metodo e come si può far capire che la religione è anche non di coscienza ma è anche logica ma il verbo incarnato è il logos quindi noi purtroppo siamo disabituati da 60 anni di palude teologica postconciliare nel postconcilio il modernismo ha fatto a pezzi quello che era l'impianto logico razionale del cattolicesimo che non è nulla di cioè quello che noi pensiamo sia il cattolicesimo oggi è una oscena parodia inversiva di quello che è in realtà tutta questa melassa questo buonismo il misericordismo l'accoglienza non c'entra niente perché il vero cattolicesimo quello di San Pio X preconciliare era uno schema razionale logicissimo poi può piacere o non piacere lo si può accogliere o non si può accogliere ma al suo interno era una specie di orologio meccanico dove tutto era chiaro tutto era chiarito infatti io ho scritto recentemente un articolo dicendo dopo 80 anni dal libro di Benedetto Croce non possiamo non dirci cristiani in cui il filosofo liberale ricordava come la nostra cultura sia essenzialmente cristiana oggi bisogna scrivere un libro intitolato perché non possiamo non ritornare cristiani sempre con lo stesso approccio laico ma perché non possiamo non ritornare cristiani perché se no c'è la follia la demenza la schiavitù e la distruzione vi faccio riflettere sul fatto che ci sono campagne che passano come le avanguardie più evolute che vogliono far scegliere ai ragazzi nell'età dello sviluppo a quale sesso appartenere la cosiddetta carriera alias allora arrivati a questo livello di abiezione di follia manicomiale i valori cristiani tradizionali non quelli alla rovescia della falsa chiesa bergogliana chiaramente né quelli stuprati da 60 anni di concilio bisogna proteggerli e conservarli per la nostra salute mentale antropologica fisica sanitaria economica giuridica mi spiego? si si se non si ritorna cristiani ci sarà morte follia demenza malattia distruzione quindi questa implicitamente è anche una risposta a chi dice ma a me non importa di chi è il papa o chi non è il papa io sono ateo non credo non mi interessa però è un italiano che vive si purtroppo devo dire che anche i giornalisti che avevano detto fino ad oggi delle cose condivisibili sono franati in questo atteggiamento molto superficiali considerando la questione di chi sia il papa come un affaire interno alla chiesa solo per i cattolici vale la pena ricordare che il papa è un capo politico spirituale che ha una diretta influenza su un miliardo 285 milioni di persone ricordiamo che sua eccellenza Bergoglio interviene a gamba tesa per dire l'Italia chi deve accogliere chi non deve accogliere cosa dobbiamo mangiare come dobbiamo vaccinarci cosa dobbiamo dobbiamo rinunciare alla carne dobbiamo mangiare i fagioli ha detto anche questo quindi questo signore interviene pesantissimamente nella nostra vita da laici e il fatto che lui non sia il papa e quindi non sia il custodo il garante di un sistema di valori che noi conosciamo al quale siamo abituati è un pericolo enorme infatti io ho compiuto la mia inchiesta essenzialmente per ottemperare all'articolo 52 della Costituzione la difesa della patria è sacro dovere del cittadino perché Bergoglio è il nemico numero uno del nostro paese e vi basti pensare che se la sua enciclica fratelli e sorelle e sorelle e sorelle tutti venisse applicata dell'Italia non rimarrebbe pietra su pietra nel giro di cinque anni ma diventerebbe un porto di mare una Babilonia attraverso un'immigrazione selvaggia e spinta quindi il nostro paese sarebbe finito finito dal punto di vista culturale e identitario bene ricordiamo che per approfondire c'è il libro di Andrea Cionci che si intitola Codice Ratzinger ringraziamo Andrea Cionci e tutti gli ascoltatori grazie a voi un caro saluto